Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Illustrato il bilancio regionale della Guardia di Finanza scoperti 400 evasori, 900 lavoratori assunti in nero e quasi 80 persone che ricevono soldi dagli enti pubblici senza averne diritto Eseguita l'autopsia sul corpo di Massimo Sabattini non ancora stabilita la data dei funerali Asfaltatura delle strade comunali di Fano al via i sopralluoghi dei tecnici per il piano dei lavori da 4 milioni di euro Treno verde alla stazione di Pesero lega ambiente premi al comune di Fano che espone le sue buone pratiche a bordo del convoglio ambientalista Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Lo avete sentito dai titoli La Guardia di Finanza delle Marche ha illustrato oggi il bilancio delle operazioni portate a termine nel 2015 ma sentiamo tutti i dettagli in questo servizio 400 evasori totali sconosciuti al fisco e 102 casi di frodi dell'IVA Il bilancio di un anno di indagini sulla criminalità finanziaria e sulla illegalità nella pubblica amministrazione è stato reso noto dalla Guardia di Finanza delle Marche grazie ai piani di controllo Le fiamme gialle hanno scoperto circa 900 lavoratori assunti in nero o irregolari utilizzati in modo improprio da più di 100 datori di lavoro in materia di appalti pubblici nel 2015 sono state riscontrate irregolarità per più di 5 milioni di euro con la denuncia di 34 persone specifica attenzione è stata riservata anche ai reati contro la pubblica amministrazione da parte di dipendenti pubblici infedeli in 80 sono stati denunciati di cui 6 tratti in arresto i finanziari hanno accertato inoltre il riciclaggio di somme di denaro per un importo di oltre 200 milioni di euro a cui si è accompagnata la denuncia di 66 responsabili e l'arresto di due persone in 5 invece sono stati denunciati per il reato di usura e 4 arrestati costante l'impegno delle fiamme gialle anche sul fronte della lotta alla contraffazione in questo settore sono state denunciate 250 persone e sequestrati 130 quintali di prodotti contraffatti o pericolosi come capi di abbigliamento realizzati con materiale scadente senza rispettare le norme di sicurezza la guardia di finanza di Pesero e Rubino ha sgominato fra l'altro un'associazione per delinquere che importava dall'estero grano e mais spacciato per biologico un altro dato sconfortante arriva dal settore delle prestazioni sociali agevolate come i servizi sociosanitari domiciliari contributi per l'affitto, telefono, luce e gas perché solo nella nostra regione su 127 controlli le irregolarità hanno superato il 60% dei casi ad approfittare dei benefici sono quindi le persone che per reddito o per le condizioni del nucleo familiare non ne avrebbero diritto non è ancora stata stabilita la data dei funerali di Massimo Sabattini il portalettere di 40 anni trovato senza vita nella stanza da bagno della sua abitazione a Cimarra di Fano intanto l'autopsia eseguita oggi pomeriggio sul corpo dell'uomo ha confermato che la morte è sopraggiunta per overdose i primi sospetti erano nati da una seringa contenente cocaina che sarebbe stata ritrovata accanto alla vittima dagli agenti del commissariato di Fano intervenuti sabato sera insieme ai sanitari del 118 mercoledì invece verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Gianfranco Astolfi l'uomo di 56 anni di Monte Felcino ritrovato morto ieri in zona Trasanni secondo le prime rivelazioni fatte dalla polizia non ci sono segni di violenza sul cadavere che facciano pensare a un omicidio anche la pista della rapina sembra essere esclusa l'ipotesi più accreditata rimane quella del malore il corpo dell'uomo è stato ritrovato intorno alle 18 all'estremità del torrente Apsa sotto un ponte dove l'acqua è alta circa 20 centimetri sul cadavere erano visibili alcune scoriazioni sugli zigomi causate dallo sfregamento del volto sulla ghiaia del letto del torrente a trovare il corpo è stato il figlio già a conoscenza della scomparsa del padre che ha intravisto l'ape del genitore vicino al bar di Trasanni dove Astolfi è stato visto per l'ultima volta cambiamo argomento dopo le piogge dei giorni scorsi si sono formate tante nuove buche sulle strade comunali di Fano ma oggi l'assessore lavori pubblici Cristian Fanesi ci ha annunciato che partiranno i sopralluoghi da parte dei tecnici 60 chilometri di strade Fanesi verranno asfaltate tra il mese di maggio e la fine dell'anno per una spesa complessiva di 3.970.000 euro nell'ambito del programma Progetti 2016 suddivisi in sei lotti distinti in modo da poter avere sul territorio più ditte che lavorano contemporaneamente nella settimana in corso assicura l'assessore Fanesi sono in atto i sopralluoghi dei tecnici e la settimana entrante si passerà ai carotaggi per verificare le condizioni attuali del manto stradale tempi stretti quindi per poter utilizzare l'avanzo di amministrazione accumulato e dare una risposta su uno dei fronti più caldi di sempre quello delle strade Colabrodo che oltre ad essere una spina nel fianco di tutte le amministrazioni è sempre costata soldi per risarcire quanti a seguito dei danni subiti per le strade dissestate hanno fatto causa all'amministrazione comunale su segnalazione di un nostro telespettatore fanese siamo andati a constatare lo stato definito vergognoso dal segnalatore delle strade del quartiere Fano 2 dove abbiamo trovato una situazione davvero preoccupante non tanto per le dimensioni e la grandezza delle buche quanto per la loro densità tante piccole, medie e profonde ma sparse su tutto il manto stradale sembra di essere una strada che ha subito un canoneggiamento intensivo in tempo di guerra una situazione pericolosa per pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti nessuno escluso il tribunale fallimentare di Ancona ha dichiarato lo stato di insolvenza della vecchia banca Marche affondata sotto un default da un miliardo di euro con 44 mila azionisti e obbligazionisti che hanno visto azzerati i loro investimenti dal decreto salvabanche ora potrebbe aprirsi la strada in sede penale alla contestazione della bancarotta fraudolenta a carico del vecchio management Oggi pomeriggio invece il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fano Fabio Tombari è stato ascoltato durante la commissione di indagine consigliare sul dissesto di banca Marche la commissione preseduta da Mirko Carloni oltre alle fondazioni bancarie ha sentito il responsabile dell'ufficio di vigilanza della Consob è stata quindi l'occasione per conoscere le attività svolte dall'organo nei momenti più critici dell'ultimo periodo di ordinaria amministrazione della banca Da ieri fa tappa a Pesaro il treno verde di Lega Ambiente a bordo del convoglio oggi è stata premiata l'amministrazione comunale di Fano c'era per noi Lino Balestra Il treno e le stazioni ferroviarie evocano subito il viaggio il trasporto le genti e la comunicazione il treno consente a chi lo utilizza di concentrarsi sul paesaggio e di riflettere e di potersi documentare stando comodamente seduti e spostarsi nella stazione di Pesaro in questi giorni stazione è un convoglio molto speciale che non arriva e riparte subito in pochi minuti ma si ferma e dà modo a chi sale a bordo di pensare ad un mondo più pulito più giusto meno inquinato è il treno verde di Lega Ambiente 11 tappe da nord a sud per raccontare l'Italia che piace quella che rigenera nella fermata a Pesaro il treno verde 2016 oltre ad ospitare le scolaresche di ogni ordine e grado guidate ed affascinate dalle guide esperte di Lega Ambiente anche convegni e dibattiti come quello di questa mattina nella carrozza condominio dove il comune di Fano è stato chiamato ad una testimonianza diretta quale comune virtuoso della provincia pesarese le nostre attività in questo anno e mese hanno riguardato quello che riguarda l'aria riguarda la terra riguarda l'acqua a cominciare dalla bonifica dell'amianto con oltre 150 tonnellate di amianto bonificato alle centraline per il monitoraggio costante dell'aria nella zona industriale per quello che riguarda la qualità delle acque dove abbiamo porteremo gli scolmatori a largo per migliorare la qualità dell'acqua come per esempio il progetto della vasca di prima pioggia nell'Arzilla poi ovviamente con l'iniziativa più importante quella degli edifici intelligenti cioè del consumo del territorio zero riqualificando guardando all'efficientamento energetico e questo è un progetto molto importante che Lega Ambiente ha preso ad esempio quindi è un momento importante per la città di Fano un riconoscimento per questa amministrazione ma soprattutto mi sento di dire da sindaco che è un bel servizio che noi stiamo facendo per la nostra città un appuntamento molto importante per tutto il territorio non solo per la città di Fano ma per noi chiaramente lo è perché è un'occasione di riconoscimento per quello che il comune di Fano ha fatto in questi ultimi anni proprio per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia anche della salute dei cittadini e questo è uno strumento utile per incontrare soprattutto le giovani generazioni i ragazzi i bambini spiegargli anche il senso di investire risorse tempo energie sull'ambiente ed è anche un modo per incontrare le proprie comunità quello che si fa proprio sui temi dell'ambiente e quindi un'occasione anche per il comune di Fano per ripercorrere dalla bonifica dell'ambianto al piano antenne ai tanti interventi di salvaguardia dell'ambiente che hanno riguardato ad esempio anche le acque di balnazioni quello che è stato messo in campo è quello che si farà Legambiente Ferrovie dello Stato ci guidano nell'emergenza globale del clima fino agli strumenti per intervenire nelle città e nei nostri quartieri cambiare le nostre città significa in maniera integrata agire sulla mobilità agire sulla efficienza energetica dei nostri edifici e contribuire insomma a una qualità migliore della vita dei propri cittadini creare nuove opportunità di lavoro per cui un ragionamento articolato complesso che noi con il nostro treno verde insomma abbiamo la fortuna di avere questo mezzo a disposizione grazie alla collaborazione con RFI abbiamo fatto il pieno delle classi che sono diciamo in visita tutte le mattine abbiamo dovuto fare anche dei turni nel pomeriggio quando solitamente il treno è aperto solo ai cittadini per cui insomma un grande successo di anche riconoscimento da parte dei cittadini il treno verde il treno verde di Lega Ambiente è composto da quattro carrozze in ognuna delle quali viene sviluppata una tematica diversa in tema ambientale attraverso il dialogo con gli operatori di Lega Ambiente e anche attraverso i pannelli che sono apposti alle pareti qui le scuole e i visitatori potranno approfondire tematiche importanti il treno rimarrà sul binario 1 della stazione di Pesaro fino a domani sera dalle 16 alle 19 sarà visitabile da parte di tutti i cittadini un tema affascinante e complesso quello che arriva col treno verde e che porta dritto al cuore di una grande sfida la trasformazione delle città la rigenerazione urbana gli ecoquartieri in città sostenibili la sfida mondiale sul nostro futuro e di cosa vogliamo lasciare ai nostri figli e alle prossime generazioni Buona la prima per la compagnia dialetale i Comediant che lunedì sera ha portato in scena la commedia dal titolo pareventanza alla grassia lo spettacolo sarà replicato questa sera 15 marzo e domani alle 21.15 al Politeama di Fano e questa sera chiudiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport perché il Lucrezia Biccia ha conquistato ben 7 medaglie di cui 4 ori 2 argenti e 1 bronzo durante i campionati italiani di Bicce Tennis Under 18 che si sono svolti lo scorso fine settimana a Faenza grande successo per il 16enne fanese Riccardo Biagioli già campione del mondo a squadre che si è giudicato tre titoli ricevendo altrettante medaglie d'oro gradino più alto del podio anche per Elisa Fuligna Camilla Spadoni e Nicolò Bretagni Bene complimenti davvero a questi ragazzi questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Dopocena con il Trio Carbone grazie per la vostra attenzione arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti